Salve a tutti fratelli e sorelle, benvenuti nel nuovo appuntamento di messaggi, notifiche e eccetera fratelli e sorelle, Dio vi benedica e sempre salutate il nostro Signore Gesù Cristo scusatevi, vi ripropongo la scusa della sera precedente, di ieri sera, per quello che è successo, vedete i canali massonici questo fanno fratelli e sorelle, copyright, sia fatta la volontà del Signore, speriamo che oggi si possa fare il programma che abbiamo predisposto, come già sapete abbiamo inviato ovviamente questa mattina presto la parola di Dio e quindi della Santa Messa, poi ovviamente messaggi e profezie, adesso nel pomeriggio verremo a fare una live meditandole, ore circa 16.30 circa se Dio vuole e poi alle 20.30 ci sarà circa un video sulla parola evviva, quindi questa segna niente live perché non posso proprio io fare la live, ma ci sarà un video sulla parola evviva, quindi ve lo ripeto, quindi oggi pomeriggio se Dio vuole live meditando alle 16.30 e invece questa sera alle ore 20.30 circa ci sarà il video la parola evviva, bene fratelli e sorelle, Dio vi benedica, Santa giornata a tutti voi, pregate per me, pregate per il mondo intero, preghiamo per la Santa Chiesa, preghiamo per tutti fratello e sorella e sia fatta sempre la santa volontà di nostro Signore Gesù Cristo e Dio vi benedica e Ave Maria.